Che cosa rappresenta il forum? Rappresenta la realizzazione di un prototipo al vero in scala 1 a 1 in cui tutti i laboratori della rete concorrono per dare un contributo dei componenti, dei pezzi, dei sistemi di monitoraggio, dei fattori di valorizzazione anche in chiave di progettualità e di ricerca. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quello che vedete è un prototipo in scala 1 a 1, la struttura, sismo resistente. Abbiamo abbinato una parete di legno, una parete che però all'esterno deve avere quei requisiti che il mercato di oggi richiede, che le categorie richiedono e non è più una specializzazione interna dell'azienda Ape. Ecco perché ci siamo abbinati all'Università di Bologna, all'Università di Ferrara, alla sperimentazione con l'ingegner Savoia per vedere quello che può resistere e quello che bisogna scartare. E' ovvio che tutto questo, che pur tecnologicamente possa essere avanzato, deve avere un risultato finale che è il costo, perché è il mercato che poi detta questo. Ed è su questo che stiamo lavorando. Il pannello parete è innanzitutto una struttura telaiata in legno con dell'isolante già interposto. La caratteristica principale, oltre ad avere ottime apprezzazioni acustiche e termiche di questo pannello qua, è l'elevata industrializzazione.